Buongiorno a tutti, il video che vi propongo oggi è un po' diverso dai soliti perché è un po' più lungo, dura circa 50 minuti e si tratta della registrazione di una conferenza online che ho tenuto per l'Uni3 di Venaria Reale. Questa conferenza aveva come tema il sogno nell'arte del cimitero monumentale di Torino. Non è un filmato in alta definizione purtroppo, però spero che riusciate a vederlo e che sia di vostro interesse. Buona visione. Perfetto, allora appunto Barbara mi ha detto che il ciclo di conferenze pensato dall'Uni3 di Venaria si focalizza sul tema del sogno e quindi l'intervento che ho preparato riguarda i sogni e gli aneliti nell'arte del cimitero monumentale di Torino. Quindi io partirei proprio da una riflessione riguardante il termine cimitero, qual è l'etimologia di questa parola. Come vedete vi ho appunto fatto un breve assunto, la parola cimitero è una parola di derivazione greca e deriva dal greco koimao che significa addormento. Da koimao deriva koimeterion che significa dormitorio, luogo di riposo, da cui koimema che significa sonno. Quindi il cimitero è un dormitorio, un luogo di riposo, un luogo diciamo in cui insomma ci si può sognare, ci si può entrare insomma in contatto con, io ritengo quasi una dimensione parallela soprattutto se si cammina nelle aree storiche di questi come abbiamo detto musei a cielo aperto. Quindi sicuramente appunto interessante dal punto di vista del sogno l'etimologia di questa parola. Poi ho pensato prima appunto di fare effettivamente il nostro percorso all'interno del monumentale, di segnalarvi uno dei simboli più utilizzati all'interno delle aree funerarie. Il papavero, noi troviamo raffigurazioni di papaveri sulle tombe, li troviamo in bronzo, scolpiti nella pietra, realizzati a mosaico. Ebbene il papavero è la decorazione funeraria per eccellenza secondo me. Il papavero funerario non è il papavero rosso comune che troviamo comunque ai bordi anche delle strade, ma è il papavero somniferum, ovvero il papavero da oppio. E questo papavero da oppio raffigurato sulle tombe per le sue proprietà narcotiche, proprio per le proprietà narcotiche che contiene tra cui anche la morfina, il papavero da oppio viene associato insomma al concetto di sonno eterno e di morte e quindi ovviamente uno dei protagonisti dell'arte funeraria in questo senso. Inoltre bisogna ricordare che il papavero da oppio nella mitologia antica è proprio un attributo del dio del sonno, di Hypnos, e di suo figlio Morfeo che è il dio dei sogni e della notte. Però solitamente il papavero viene anche associato alle tombe dei soldati, le tombe dei caduti in guerra. Non è il papavero da oppio quello che viene posto sulle tombe dei soldati, ma è il papavero comune, il papavero rosso, che viene cantato anche da Fabrizio De Andrè, insomma quando parla della tomba di Piero, dormi sepolti in un campo di grano, ti fanno guardia mille papaveri rossi. Questo papavero rosso è soprattutto utilizzato nella cultura anglosassone ed è un simbolo legato al giorno della rimembranza che si tiene ogni 11 novembre ed è una giornata collegata alla fine della Prima Guerra Mondiale, quindi l'11 novembre del 1918. Il papavero rosso venne scelto come simbolo di questa giornata del ricordo dei caduti in guerra in riferimento a una poesia intitolata Nei campi di Fiandra, una poesia che è stata scritta nel 1915 da un medico, soldato e poeta canadese che si chiamava John McCrae. E questa poesia ha appunto questo incipit, così recita Nei campi delle Fiandre sbocciano i papaveri tra le file di croci che segnano il nostro posto. Questo poeta ha scritto, insomma questo componimento, perché è ispirato a degli eventi da lui vissuti in prima persona nella seconda battaglia delle Fiandre che si svolse a Ypres in Belgio tra l'aprile e il maggio del 1915. Durante questa battaglia il poeta McCrae perse anche un suo caro amico. E si racconta che appunto in seguito alle battaglie che si svolsero in questi campi delle Fiandre, dove vennero anche proprio sepolti i soldati, per motivi genici questi campi vennero praticamente ricoperti di calceviva e gli unici fiori che potevano sbocciare in questi campi erano proprio i papaveri. E quindi il papavero rosso appunto è diventato un simbolo anche per questa motivazione. Ogni 11 novembre vengono creati, come vedete nell'immagine che vi ho messo qui, anche dei papaveri proprio di tessuto o di carta che vengono portati proprio sulle tombe dei soldati. Adesso una breve introduzione, proprio insomma molto veloce, su quando nasce il cimitero monumentale di Torino. E poi appunto vi faccio vedere le tombe, i monumenti che ho selezionato. Allora, dobbiamo andare indietro nel tempo e risalire insomma al diciottesimo secolo, quando già da lungo tempo c'era l'usanza di seppellire i difunti all'interno delle chiese della città. Nel 1776 questa usanza insomma viene bloccata, soprattutto per motivi legati alla salubrità pubblica. E quindi nel 1776 il re Vittorio Medeo III di Savoia, che vedete raffigurato in questo dipinto realizzato dalla pittrice Clementina, Vittorio Medeo III emana un decreto regio in cui stabilisce il divieto di seppellire all'interno delle chiese della città. E con questo decreto si stabilisce la costruzione di due cimiteri extraurbani che si dovevano trovare appunto fuori dalla cinta fortificata che all'epoca ancora cingeva la città di Torino. Questi due cimiteri erano il cimitero di San Pietro in Vincoli che vedete in questa immagine, qui è proprio raffigurato all'interno del cimitero, questo cimitero è ancora oggi esistente e si trova dietro la cittadella del Cottolengo e ovviamente già da moltissimo tempo non è più usato come cimitero ma attualmente viene utilizzato come sede per delle rappresentazioni teatrali. Quindi questo era uno di questi due cimiteri costruiti in seguito al decreto regio. L'altro cimitero invece era il cimitero di San Lazzaro che in questa immagine di proprietà dell'archivio storico di Torino trovate in questa zona in basso, scusate al centro, a sinistra ve lo sto indicando con il cursore. Il cimitero di San Lazzaro si trovava praticamente su Corso Cairoli su quello che noi oggi chiamiamo Corso Cairoli e che qui vedete insomma molto diverso perché qui siamo alla metà del 1800 c'erano addirittura in Riva al Po le lavandaie. Questi due cimiterini appunto erano identici erano abbastanza piccoli e a inizio 800 risultano insufficienti perché la città si sta ingrandendo dal punto di vista urbanistico e dal punto di vista demografico quindi serve un cimitero più ampio un cimitero più capiente e un cimitero insomma sempre lontano dalla città perché questi stavano appunto per essere inglobati insomma dall'ingrandimento di Torino. viene quindi tra 1826 e 1827 progettato quello che noi oggi chiamiamo il cimitero monumentale e che all'epoca un tempo si chiamava cimitero generale. Questa è una fotografia dell'ingresso su Corso Novara una fotografia storica d'epoca e quindi vediamo la cappella cimiteriale che è fiancheggiata qui a sinistra e poi anche comunque a destra da due cadeggiati che ci sono ancora oggi. Il cimitero, la parte più antica scusate, del cimitero monumentale il campo primitivo cosiddetto viene progettato dall'architetto Gaetano Lombardi e questa era la forma del cimitero monumentale quando aprì i suoi cancelli per la prima volta il 5 novembre del 1829. Questo cimitero non sarebbe stato costruito o comunque sarebbe stato costruito molto tempo dopo se non ci fosse stato il marchese Carlo Tancredi Falletti di Barolo. Infatti il marchese di Barolo quando venne progettato il campo primitivo era sindaco di Torino e il preventivo di spesa per la costruzione di questo cimitero ammontava 350 mila lire. Il marchese che cosa fece? Siccome la città non aveva la possibilità economica decise di donare alla città 300 mila lire quindi quasi l'intera cifra del preventivo e con questi soldi vennero acquistati i terreni e venne edificato appunto il campo più antico. Quindi dobbiamo ringraziare il marchese che ha dato proprio il via alla costruzione di questo luogo che nel corso del tempo ovviamente si è ingrandito. Quindi in questa mappa voi trovate tutta la superficie attuale del cimitero monumentale e assolutamente un cimitero io di solito dico gigante. La parte dove noi andremo tra poco è quella che qui vedete raffigurata in giallo. Queste sono le cosiddette aree storiche. Invece la parte in verde e la parte in viola sono le aree più recenti e sono le aree totalmente attive mentre nell'area storica si viene sepolti solo più se si ha la tomba di famiglia. Quindi qui in questa parte gialla ritrovate il campo primitivo a forma di ottagono quello progettato da Gaetano Lombardi e vedete poi la prima ampliazione che risale agli anni 40 dell'Ottocento la seconda a seguire la terza la quinta eccetera. Le opere che vi farò vedere si trovano dislocate proprio in queste aree. Quindi ritorniamo appunto al tema principe, i sogni e gli aneliti. Io qui appunto ho fatto una selezione delle sculture, delle opere che mi sono sembrate appunto più attinenti alla tematica quindi sculture che possono richiamare una dimensione di sogno, una dimensione onirica e sculture anelanti. Allora partiamo con il monumento funebre voluto da questa donna e fatto realizzare nel 1835. La donna che vedete in questo ritratto si chiamava Carlotta Marchionni ed è morta proprio quando venne proclamata l'unità d'Italia. Lei era un'attrice, un'attrice teatrale, la più importante attrice teatrale del Regno di Sardegna. Fu amica molto di Silvio Pellico. Silvio Pellico oltre a scrivere ovviamente le mie prigioni scrisse anche delle tragedie tra cui la più importante la Francesca da Rimini e Carlotta Marchionni fu l'interprete più acclamata di questa tragedia che si dice aiutò anche Silvio Pellico a redigere. Vediamo appunto il monumento da lei commissionato. Eccolo qui, un monumento realizzato dallo scultore Giuseppe Bogliani e come vi dicevo realizzato nel 1835 e questo è uno dei monumenti effettivamente più antichi del nostro cimitero monumentale. e Carlotta Marchionni che cosa ha voluto far raffigurare? Ha voluto far raffigurare quello che a tutti gli effetti era un suo sogno nel senso che qui la nostra attrice, la nostra Carlotta viene raffigurata in piedi vicino a un catafalco dove è distesa una figura femminile che le sta mettendo una mano sul capo. Carlotta sta ricevendo l'ultimo saluto, l'estremo saluto dalla madre Elisabetta Morente. Perché vi dico che questo è un sogno? Perché nella realtà questa scena non avvenne mai. Carlotta Marchionni non la viste mai in quanto quando la madre venne a mancare Carlotta non si trovava al suo capezzale. era via per una torne teatrale e quindi a questa donna rimase sempre il rimpianto di non aver potuto salutare per l'ultima volta sua madre. Perciò cercò di eternare questa immagine da lei anelata, da lei sognata nella pietra grazie insomma al lavoro di questo scultore. Questa non è effettivamente la tomba, questo è il monumento, è un monumento commemorativo. Le tombe di Carlotta Marchionni e della madre Elisabetta si trovano proprio nella parte antistante a questo monumento che è situato nel campo primitivo. Veniamo a un altro monumento molto conosciuto del cimitero monumentale che si trova al centro della prima ampliazione. È il cosiddetto monumento della sposa bambina ed è un monumento ripeto molto noto sicuramente perché insomma è molto romantico e molto particolare e si trova sul violone centrale del cimitero monumentale quindi è impossibile passarci davanti senza vederlo e l'occhio viene subito catturato da questo baldacchino insomma neovotico sotto il quale è posizionata riposa una sorta di bella addormentata Teresa De Nuna. Questo monumento non è stato realizzato da un solo artista ma da tre professionisti che hanno collaborato. la parte architettonica quindi il catafalco è stato progettato dall'architetto Carlo Ceppi mentre la figura che adesso vi farò vedere sotto il baldacchino è stata realizzata da Odoardo Tabacchi che è stato docente di scultura all'Accademia Albertina di Torino e poi abbiamo queste figure di angeli realizzate da Pietro Canonica altro grande scultore allievo di Odoardo Tabacchi questa è una questi angioletti sono praticamente una delle prime opere realizzate dal Canonica in ambito cimiteriale. Allora perché è stata chiamata sposa bambina questa bella addormentata? Perché secondo alcuni sarebbe stata rappresentata con indosso il suo abito di nozze e bambina perché sarebbe morta in giovane età effettivamente Teresa De Nina morì il 21 giugno del 1883 e che aveva soltanto 28 anni la leggenda racconta che questa giovane sarebbe morta misteriosamente durante la prima notte di nozze in realtà così non è perché se si va a prendere la gazzetta piemontese insomma del giorno in cui lei è venuta a mancare si trova il suo necrologio e questo necrologio appunto ci racconta che questa giovane soffriva di una malattia polmonare e quindi dopo essere stata per un certo periodo nel sud Italia per trovare un clima insomma migliore rispetto al nostro è ritornata a Torino ha avuto una ricaduta ed è venuta a mancare e quando è morta oltre a lasciare il marito lascia anche due o tre bambini quindi è proprio impossibile che sia venuta a mancare misteriosamente la notte delle sue nozze però è ovvio che un monumento così particolare fa galoppare la fantasia lei è raffigurata come giacente quindi la vediamo appunto distesa su un catafalco e è un monumento questo che sicuramente prende ispirazioni tra gli altri dal monumento funebre a Ilaria del Carretto che troviamo a Lucca vi faccio porre l'attenzione sulle statuine degli angioletti che circondano il baldacchino della della sposa bambina perché a oggi questa è una fotografia storica a oggi se voi andate a visitare questo monumento andate a vedere questa tomba gli angioletti purtroppo sono stati quasi tutti decapitati dai vandali e quindi ne rimangono intatti uno o due al massimo purtroppo allora andiamo oltre e passiamo al monumento d'Urio siamo ritornati nel campo primitivo è un monumento che è stato realizzato da un grandissimo artista che si chiamava Leonardo Bistolfi originario di Cavale Monferrato Leonardo Bistolfi è stato uno dei più grandi scultori dell'arte funeraria tra 8 e 900 tanto da acquisire il soprannome di poeta della morte e nonostante appunto la faccia non sia tra le più allegre al nostro Bistolfi proprio non piaceva essere soprannominato in questo modo piuttosto lugubre ma anche perché i suoi monumenti i funerari hanno sempre insomma guardano scusate sempre alla speranza cioè per Bistolfi la morte non era la fine di tutto ma la morte era l'inizio di una nuova vita era trasfigurazione e trasformazione quindi i suoi monumenti sono insomma veramente speranzosi e non incitano comunque non sono pregni di dolore urlato potremmo dire il monumento d'Urio ha questa forma particolare come vedete una forma adelle perché in origine non si trovava nel cimitero monumentale ma si trovava nel cimitero extraurbano di Madonna di Campania oggi Madonna di Campania è un quartiere a tutti gli effetti di Torino ma un tempo era un soborbo e un tempo i soborbi intorno a Torino avevano ciascuno il suo cimitero questo cimitero è stato è stato soppresso negli anni settanta e quindi questo monumento è stato trasferito al monumentale ma nel cimitero di Madonna di Campania era addossato ad un muro d'angolo ecco perché ha appunto questa forma particolare adelle cosa raffigura Leonardo Bistolfi questa è un'opera del 1898 Leonardo Bistolfi raffigura il dolore confortato dalle memorie quindi vediamo questa figura centrale ammantata con il capochino e le mani giunte che non è la raffigurazione di una donna che noi possiamo riconoscere è più che altro la rappresentazione proprio del sentimento del dolore però non è un dolore come dire lancinante un dolore urlato come dicevo poco fa è un dolore interiorizzato un dolore accettato perché è un dolore che è sostenuto e confortato dai ricordi e quindi dietro questa figura vedete proprio tantissime appunto figure idealizzate di fanciulle che rappresentano i ricordi non sono i ricordi oggetti concreti ma sono pensieri sono insomma pensieri che ci ricordano e ci avvicinano alla persona che abbiamo perduto in questo caso nonostante appunto la malinconia di fondo è la speranza che prevale perché ripeto il dolore è accettato e il mondo reale entra in contatto con quello spirituale proprio perché il conforto del dolore sono appunto i ricordi e le memorie qui vedete il lato breve del monumento con l'epitaffio questo monumento venne dedicato all'imprenditore Giuseppe Durio dalla moglie e dai figli e quindi qui sulla sinistra vedete questo volto con la barba il Giuseppe Durio il defunto che è circondato da queste figure di angeli che lo proteggono e sotto fate caso una profusione di fiori sono tutti appunto papaveri come abbiamo accennato poco fa questo invece è il modello in gesso di questo monumento che avete appena visto ed è conservato questo modello in gesso a Casale Monferrato dove si trova la gipsoteca Leonardo Bistolfi che vi consiglio di visitare quindi lì trovate veramente tutti i modelli in terracotta i bozzetti i gessi che ci consentono che vi consentono ci consentono di vedere come questo artista lavorava e la cosa interessante da notare è che gli originali diciamo così di questi monumenti si trovano dislocati in vari cimiteri italiani e anche esteri adesso abbiamo invece c'è alcuni monumenti un paio di monumenti realizzati da un contemporaneo di Bistolfi Davide Calandra il quale era di Natali più agiati rispetto a Leonardo Bistolfi faccio una parentesi per dire che l'arte funeraria era un modo molto importante che gli scultori avevano per guadagnare per fare cassa e Davide Calandra essendo di famiglia comunque ricca di famiglia giata non aveva diciamo così bisogno di lavorare nell'arte funeraria per guadagnare perché insomma lui era già ricco di suo quindi di monumenti funerari di Calandra non ne abbiamo tantissimi e del monumentale di Torino ce ne sono tre io adesso ve ne faccio vedere due invece pensate che di monumenti di Bistolfi realizzati da Bistolfi al monumentale di Torino ce ne sono 15 quindi insomma questo vi fa capire anche la mole del lavoro appunto in ambito cimiteriale dei due il gesto che vi faccio vedere qui è conservato alla Gipsoteca Calandra di Savigliano quindi altro museo assolutamente da vedere se non se non l'avete ancora fatto e questo è il gesto appunto di un'immagine che più che da sogno potrebbe essere considerata un'immagine da incubo il monumento Geister che si trova nella terza ampliazione del cimitero monumentale vedete che Calandra raffigura quello che lui ha chiamato l'impero della morte quindi vediamo al centro questa figura a cavallo con le ali spiegate la spada in mano e la clessidra nell'altra l'angelo appunto della morte che si staglia minaccioso inesorabile davanti a questa umanità variegata che si vede in basso a sinistra nella quale individuiamo una donna un soldato una monaca un anziano una madre con il bambino sullo sfondo una città si intravedono le ciminiere fumanti la morte quindi colpisce tutti in modo indifferente cioè non importa se si è anziani se si è piccoli se si è vigorosi o se si è deboli la morte coglie tutti quindi è una immagine sicuramente di impatto inquietante come vi dicevo prima non tanto da sogno quanto da incubo però se notate dietro l'angelo della morte sulla destra si erge la speranza quindi vediamo il Cristo benedicente che può essere considerato un'ancora di salvezza per tutti coloro che appunto vengono toccati da questo angelo minaccioso sempre il Davide Caland poi è il monumento Vicari del 1911 notate come quasi tutti questi monumenti che vi sto facendo vedere ristalgono ai primi del Novecento quindi noterete anche la presenza del gusto Liberty in queste opere il monumento Vicari è dedicato a una ragazza Celestina Vicari che nacque nel 1885 e morì nel 1910 a soli 25 anni il monumento venne commissionato dal padre della ragazza che si chiamava Mario e insieme appunto a Celestina qui si trovano le tombe anche del padre e della madre Irene cosa vediamo sulla sinistra scusate vedete il modello in gesso che si trova alla Gipsoteca di Savigliano e in questa immagine vedete proprio il monumento che è stato eseguito e che troviamo sotto le arcate della prima ampliazione del cimitero monumentale di Torino e un basso rilievo in marmo dove il nostro Calandra raffigura l'anima di questa giovane mentre scende al cielo e mentre raggiunge questa croce che come vedete emana dei raggi luminosi le mani della ragazza sono giunte gli occhi sono chiusi e viene qui raffigurato il tema dell'elevazio anime quindi l'anima che va verso il cielo e che si distacca dal corpo mortale però vediamo appunto che qui questo tema viene trattato viene reso in modo molto intenso sempre seguendo i dettami del gusto liberty quindi vediamo appunto questi raggi che vengono emanati dalla croce le vesti della fanciulla i capelli fluttuanti e poi la presenza di questo prato di fiori fiori ed elementi vegetali che vanno poi anche a circondare insomma a incorniciare la scena questo è un particolare che insomma vedete e passiamo al monumento Boido realizzato da Edoardo Rubino qui ci troviamo nella cosiddetta quinta ampliazione siamo tra 1907 e 1910 e il monumento Boido appunto è un altro basso rilievo sempre in marmo che insomma presenta anche qui una scena io dico onirica sempre per collegarci appunto al nostro tema principale viene raffigurata appunto una donna una figura ammantata che dopo aver sceso delle scale viene accolta da due angeli e sale all'interno di una barca quindi vediamo proprio la defunta che lascia il mondo dei vivi vedete queste persone i suoi cari probabilmente che la vedono partire monta appunto su questa barca che viene poi traghettata verso l'orizzonte una barca che va verso la pace infatti qui non si vede ma in basso c'è proprio un'iscrizione che recita così quindi l'anima quest'anima l'anima di questa defunta viene accolta dagli angeli e insomma va verso l'orizzonte verso la pace e e quindi viene rappresentato come vi dicevo il distacco della vita dalla vita terrena dal dal mondo insomma dal mondo dal mondo dei viventi e proprio delle raffigurazioni in stile liberty sostituire alla durezza del dolore una malinconia che è rivolta però al confort e alla speranza quindi questa questa defunta l'anima di questa defunta non va verso il nulla ma viene portata da questi angeli in occhieri verso la pace verso una nuova vita diciamo qui anche avete un altro particolare del monumento e passiamo sempre a un monumento realizzato da Edoardo Rubino insieme a un altro artista Giulio Casanova e il monumento Porchedu siamo nel 1912 e spettacolare è il contrasto tra la parte scultorea marmo bianco e la parte musiva la parte realizzata a mosaico da Giulio Casanova il monumento Porchedu fu voluto da un imprenditore da un ingegnere scusate che si chiamava Antonio Porchedu e insomma un ingegnere che era di origine sarde ma che studiò al Politecnico di Torino e ricordo questo personaggio perché è stato lui ad introdurre in Italia l'uso del cemento armato per gli edifici e per le costruzioni il cemento armato venne brevettato nel 1892 da un ingegnere francese e in quell'anno proprio Porchedu ottenne diciamo così la concessione esclusiva per utilizzarlo in Italia il monumento che noi vediamo è stato dedicato alla moglie di Porchedu che si chiamava Amalia Dainesi e Porchedu da questa donna ebbe sette figli io ricordo un figlio in particolare Giuseppe Porchedu detto Beppe che è stato un illustratore di libri per l'infanzia ha collaborato anche con il Corriere dei Piccoli ed è noto soprattutto per aver illustrato le avventure di Pinocchio di Collodi recentemente nel 2019 di Beppe Porchedu sono state ritrovate delle tavole riguardanti i viaggi di Gulliver Beppe non è sepolto nella tomba che vi ho fatto vedere prima perché nel 1947 scomparve un po' come successe a Majorana quindi non sappiamo quando è morto non sappiamo dove sia finito né dove sia la sua tomba vediamo nel particolare appunto il monumento la parte scultoria del monumento Porchedu realizzata da Edoardo Rubino e come vedete viene raffigurata un'altra bella addormentata distesa sul catafalco ed è questa bella addormentata circondata da quattro figure femminili quattro piangenti sulla destra queste due figure femminili con le mani schermano la testa il volto della dormiente quasi a volerla proteggere dal vento dalla luce dall'altra parte abbiamo altre due piangenti una impegnata appunto a vegliare la defunta e l'altra che in mano tiene una lucerna la lucerna è anche un altro simbolo che troviamo molto spesso nei cimiteri in quanto la lucerna tener viva la fiamma che arde nella lucerna significa mantenere anche vivo il ricordo del defunto e poi in basso sul catafalco qui però purtroppo non si vede perché la foto è tagliata c'è un'iscrizione in latino una frase molto significativa tratta dalle Filippiche di Cicerone che dice questo la vita dei morti è riposta nel ricordo dei vivi altro monumento di Edoardo Rubino è il monumento a Remondini che è altamente suggestivo siamo sempre nel 1912 e questo monumento che si staglia nella terza ampliazione è veramente particolare perché è isolato è isolato è un monumento lontano da quelli che ci sono intorno e quindi il senso del distacco il tema del distacco è proprio accentuato da questo contesto da questo spazio circostante che isola questa figura il monumento è stato definito è stato soprannominato l'ultimo saluto ed è raffigurata quindi secondo alcuni una donna che è stata fermata diciamo così bloccata nel gesto sofferente dell'ultimo saluto quindi una donna che sta per varcare la soglia che separa il mondo dei vivi dal mondo dei morti mentre secondo altri sarebbe stata raffigurata una donna che sta salutando una persona che è già scomparsa nell'aldilà diciamo che la lettura forse più attinente è la prima quindi è una donna che sta per andare nell'aldilà e quindi dà l'estremo saluto a chi rimane il monumento è dedicato a Maria Remondini che morì nel 1911 seguita poi nel 1913 dal marito Adolfo qui abbiamo un altro monumento questo monumento che si trova proprio all'ingresso del cimitero monumentale quindi se voi barcate l'ingresso principale da Corso Novara vi trovate subito davanti questo monumento il monumento Moriondo che è stato realizzato da Cesare Reduzzi sempre nei primi anni del novecento qui vediamo una figura totalmente abbandonata la figura di questa fanciulla con i capelli sciolti Teresa Moriondo una giovane che morì a 35 anni e la vediamo se qualcuno vuole dire qualcosa tutto a posto proseguire ho partito un audio vai tranquilla allora vi dicevo che appunto in basso nella parte bassa del monumento insomma vediamo un feretro con una croce sulla parte frontale da questo feretro esce un rovo che come vedete si trasforma in rose e dal feretro appunto esce anche la figura di questa giovane fanciulla totalmente abbandonata anche lei sembra quasi addormentata comunque una figura che viene circondata da un'altra figura velata una figura della quale non scorgiamo il volto una figura che è abbastanza inquietante perché non è la figura di un angelo custode che prende l'anima e la porta nell'aldilà nel paradiso è una figura appunto di cui non scorgiamo il volto quindi non sappiamo se è una figura positiva o una figura negativa potrebbe rappresentare il mistero di quello che c'è oltre la morte lo sappiamo con certezza quindi ripeto una figura di inquietudine una raffigurazione che Ben si inserisce a inizio secolo di solito nel passaggio da un secolo all'altro ci sono appunto momenti insomma di inquietudine di incertezza e insomma questa raffigurazione appunto si collega molto bene a un secolo che finisce e un secolo che inizia con tutto quello di nuovo di brutto e di bello che ci potrà essere la stessa diciamo così lo stesso tema che avete visto nel monumento Moriondo viene anche sviluppato in questo monumento Mosca Solavaggione sempre del 1912 realizzato dallo scultore sudamericano Cesar Santiano qui vediamo sempre appunto questa figura velata che insomma circonda che insomma lievita intorno a questa fanciulla totalmente abbandonata passiamo a un'altra visione di sogno osservando il monumento Vigo realizzato da Pietro Canonica nel 1908 un monumento che si trova nel campo primitivo vicino all'ossario centrale all'ossario generale e quindi in un luogo di passaggio un monumento abbastanza visibile quello che vedete qui sulla sinistra è il modello in gesso che si trova al Museo Canonica di Roma all'interno del parco di Villa Borghede infatti Pietro Canonica che era originario di Moncaglieri nel corso della sua vita e della sua carriera si trasserì a Roma dove morì e appunto nel parco di Villa Borghese c'è quella che è stata la sua casa romana con annesso studio ed oggi è possibile insomma visitarla quindi qui in questo museo come vi dicevo è conservato il modello di questo bel monumento che è soprannominato il monumento della bambina con il cerchio e questa bimba che vedete raffigurata si chiamava Laura Vigo ed è una bimba che morì nel 1907 che ancora non aveva insomma dieci anni morì di una malattia fulminante e come la rappresenta Canonica Canonica la rappresenta che si ferma smette di giocare mette il suo cerchio il suo gioco dietro la schiena perché il momento dei giochi è finito questa bambina sente di essere chiamata sente di essere destinata ad un altro ovo ad un'altra dimensione e infatti vedete che dietro di lei ci sono degli angeli che sono già venuti a prenderla qui vedete un particolare del monumento al cimitero monumentale un monumento in bronzo e qui un altro particolare Laura Vigo può essere considerata un po' un simbolo dei bimbi che si trovano sepolti nel cimitero monumentale e quindi non è raro vedere posizionato vedere posizionati sulla sua sul suo monumento dei regali quindi qui vedete una busta di plastica con dentro un peluche insomma adesso ci sono degli altri oggetti però è come insomma se le persone portando dei regali dei piccoli regali a questa bambina insomma ricordassero anche gli altri bimbi che sono all'interno del cimitero torinese sempre di Pietro Canonica poi è questo monumento il monumento Custer del 1920 un monumento insomma dove noi vediamo una figura femminile molto sensuale che è prostrata davanti ad una croce qui la croce purtroppo non la vedete perché esce fuori dal nostro campo visivo quindi una donna che sembra percorsa insomma da un frenito da un anelito di dolore però se notate la rappresentazione non è tanto drammatica quanto teatrale e sembra quasi che insomma vengano riprese le pose delle dive del cinema dell'epoca e io vi ho messo appunto qui una Pina Menichelli nel nel film Il Fuoco del 1915 diretto da Giovanni Pastrone ritorniamo solo un attimo all'immagine precedente a fianco io vi ho messo il modello in gesso che si trova al Museo Canonica di Roma e vi faccio ancora notare appunto la sensualità della figura è una figura che sembra quasi svestita parte del seme quasi esposto spesso capita trovare di trovare nell'arte funeraria raffigurazioni di questo tipo e bisogna però appunto ricordare che insomma il corpo femminile la bellezza la sensualità femminile si presta molto bene a trattare il tema del binomio tra eros etanatos tra amore e morte che nei cimiteri è appunto molto presente io terminerei questa carrellata di donne sognanti e anelanti di sculture sognanti e anelanti con la tomba di un personaggio illustre del nostro cimitero la tomba di Isabelouette che vedete raffigurata in queste tre immagini dell'epoca Isabelouette al secolo Teresa Ferrero è stata una grande diva della rivista italiana nella prima metà del 1900 l'antesignana di Vanda Osiris possiamo dire lei è morta nel 1939 che aveva solo 41 anni ed è morta di Tisi insomma in età ripeto molto molto giovane lei è stata la scopritrice di Macario Macario tra l'altro ha la tomba abbastanza vicino quella di Isabelouette e questa è un'altra tomba che trovate vicino all'ingresso principale quindi è abbastanza facile da trovare e da individuare il monumento che voi vedete è dei primi anni 40 ed è stato realizzato da un allievo di Leonardo Bistolfi Giacomo Giorgis il quale va a raffigurare Isabelouette distesa a terra come in un'ultima danza come in un ultimo sonno la vediamo con i piedi scalti i capelli sono sciolti nei capelli sono stati inseriti dei fiori e vediamo appunto le mani le braccia distese sopra il suo capo quindi un'altra raffigurazione molto romantica molto suggestiva che attrae notevolmente l'occhio dell'osservatore che passa anche un osservatore che non è in visita culturale al cimitero sicuramente si ferma davanti appunto un monumento di questo tipo che ha anche una storia molto interessante dietro Isa Bluetto come vi dicevo non è molto ricordata anche perché di lei non abbiamo nessuna nessun video praticamente non c'è neanche nessun audio quindi non possiamo neanche sentire la sua voce sul letto di morte si sposò con Nuto Navarri che era suo compagno sul palcoscenico e nella vita Nuto Navarri era un attore comico lo vedete qui raffigurato in questa fotografia ed è appunto sepolto anche lui insieme ad una delle sue quattro mogli perché oltre a Isa Bluetto appunto Nuto Navarri poi si sposò altre tre volte io con questo ho terminato questa carrellata di sculture che ho selezionato perché insomma piacciono a me ma anche perché ho trovato abbastanza attinenti insomma al tema delle vostre conferenze e se volete appunto seguire la mia attività cercate la Civetta di Torino sui social o su internet con la mia attività con la mia attività con la mia attività che si tratta Grazie.